Cioè posso morire adesso? Matti! Stellato? Si mangia! Allo stellato! Primo due stelle e non si scorda mai. Willy? Quella qui? Del latino? Questa è la morona. Primo antipasta di un investimento. E' appagante o no? Ma come si fa a impiantare così? Cioè io facevo di quelle robe. Questa è una novità per noi. Allora, e senza la sinope? E' aria. E' aria, non è burro. E' aria. Ecco, potriamolo di burro. Sacchi e naponese. E me sta cosa mi ballerò fuori di testa proprio. Quindi dentro a villa, il peccettino di ostriche. Il prossimo percorso con il nostro è il birro. Partiamo con le mani. Partiamo con le mani. Quanto è bello. Allora io freddo. No, non si può fare il break? Si, si può fare. Si. L'unione dell'Italia e della Francia. La pancetta è la schiuma. La tuga è liquida. Ok. L'aglio e la crema di pisalia all'interno della biocche. Mmm, di pisalia. Mmm. 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 La pancetta. Mmm. E lo so più di. Spaziale. Pane. Olio. Palsimolo. E bu. Basta. Brannetta. Bicchierino di merlot. Ma che si può. Strepitoso. Strepitoso. Ondo di piccione con all'interno gin, foie gras e tallodanno. Io vorrei montarne 12. Sapore, 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 sapore. No. Questo esiste dal 1950. Eh. Questo lo faceva la mamma di Daniele. Così. E' una cucina concreta. C'è proprio uno da gusto, 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 gusto. Fatto preferito mio di giornata. Io oggi ho i ravioli. Perché sono un malato. Piccione. Si va a casa. Si va a casa. Eeeeeee.